Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisaregello verso Roma, in direzione Bologna invece a causa di lavori chiusura a corsie tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, in a 11 rallentamenti a causa del traffico intenso tra Monte Catiniterme e Pistoia in direzione Firenze e per materiali dispersi tra Capanuri e Lucca Est verso Pisa. In Fipili a causa di lavori due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strasigna in direzione Firenze e un chilometro di coda invece in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenza ancora a code a causa di lavori tra Pugibonsi Sud e Colle Valdelsa Sud in direzione Siena. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!